Anticipazioni, terra amara dal 24 al 27 agosto. L'assenza di Unkar ha creato un vuoto nell'anima di tutti coloro che l'amavano, un dolore troppo immenso per essere contenuto. Fekeli, un uomo dal cuore di acciaio, si trova ad affrontare un tormento indicibile, un dolore che penetra fino al midollo e che sa, non svanirà mai del tutto. Tuttavia, con una forza di volontà quasi inumana, afferma che dovranno apprendere a convivere con questo strazio. L'uomo, forte dell'esperienza che solo il tempo può donare, cerca di infondere coraggio agli Yaman. Li sprona a ritrovare il sorriso, a rialzarsi e riprendere il cammino della vita. Demir risponde con voce incerta, desiderando che sua madre possa riapparire in quell'istante, rivelando che tutto non era che un brutto scherzo. Ma tutti sanno che non sarà così. Nel mezzo di tutto ciò compare Sevda, la cui presenza suscita immediatamente un vociare di sussurri e ipotesi. Le donne, raccolte in preghiera, continuano a chiedersi chi possa aver compiuto l'atroce gesto di assassinare Hunkar, mentre Behice, avvolta in un velo nero, finge di pregare per l'anima della signora Yaman. Il suo silenzio, la sua mascherata espressione di dolore, non sfuggono all'attenzione delle donne. Sevda, nel frattempo, si avvicina prima a Zuleya e poi a Demir per esprimere le sue condoglianze. Demir ammette di aver capito che la morte di sua madre non è stata un incidente o l'esito tragico di un furto, come il suo assassino avrebbe voluto far credere. Infatti, Behice, dopo averla brutalmente pugnalata, le ha rubato i gioielli, ma ha dimenticato di prenderle il denaro che aveva nella borsa. Demir, con una determinazione glaciale e ferina, giura di smascherare chi ha commesso l'omicidio e di farlo pagare a caro prezzo per il suo crimine. Il giorno successivo, Sevda, Zuleya e Gulten si adoperano per i preparativi del viaggio finale di Hunkar. Il suo funerale si terrà nel pomeriggio. Parallelamente, presso la dimora di Fekeli, Mushgan e Behice si ritrovano per discutere del tragico destino della madre di Demir. Behice affronta la situazione con un'ironia che confina con il disprezzo, mostrando una mancanza di rispetto. Questo comportamento suscita un senso di allarme in Mushgan, che inizia ad alimentare sospetti nei confronti della donna. Mushgan decide quindi di confrontarsi con la zia, imputandole senza mezzi termini la responsabilità della morte di Hunkar. Behice risponde all'accusa gravosa con una vena di teatralità, fingendosi stupita e offesa. Poi, in un colpo di scena degno di una telenovela, fa le valigie, chiama un taxi e se ne va, lasciando Mushgan attonita. Poco dopo, si svolge il funerale di Hunkar, con la partecipazione di una moltitudine di persone. Durante la cerimonia, però, si verifica un evento imprevisto e drammatico. Le guardie irrompono e arrestano Sevda, accusandola ufficialmente del delitto della signora Yaman. Questa rivelazione provoca una scossa sismica tra i presenti. Sanye, in preda a un impeto di ira, si lancia contro Sevda, imputandole di aver distrutto la sua famiglia. La tensione è palpabile, il dolore è tangibile, e il mistero dell'assassinio di Hunkar rimane ancora avvolto nel buio. Nel cuore del vortice che si è scatenato attorno a lei, Sevda proclama con voce tremante la sua innocenza. Nonostante le sue dichiarazioni e le suppliche disperate, le guardie la trascinano via senza indugi. In questo scenario di sconforto totale, lo sguardo si posa su Mushgan, la quale, col cuore greve, si precipita alla stazione di polizia per aiutare la zia, sentendo il peso di un profondo rimorso per l'accusa che le aveva lanciato. Nel sentire della cattura di Sevda, Beyce non riesce a mascherare un sorriso di compiacimento. Nonostante questo, mantiene con maestria il ruolo della vittima ingiustamente accusata, giocando perfettamente la parte della manipolatrice narcisista, riuscendo a far sentire Mushgan in colpa. Ma infine, con un gesto carico di finta generosità, pretende di perdonare Mushgan e insieme fanno ritorno a casa. Nel frattempo, in un pittoresco cimitero del paese, si svolge l'intimo rito funebre di Unkar. Tra i più addolorati ci sono, ovviamente, Demir e Fekeli. Le lacrime di addio bagnano il volto di quest'ultimo, che rimane al cimitero anche dopo la conclusione del rito, incapace di lasciare quella che un tempo era la sua dolce metà. Con un dolore straziante nel petto, si rende conto che metà della sua esistenza giace ora sepolta con lei. In un ambiente pervaso di sofferenza e confusione, Amminè inizia a cercare disperatamente sua figlia, preoccupata dal fatto che Unkar sia uscita e non sia più tornata. Desidera partire alla sua ricerca, sentendo che è un obbligo materno. Non si può negare che le scene di Amminè in questo dramma risuonano profondamente nel cuore degli spettatori. Al di là della scena di dolore, Sevda si prepara ad affrontare un interrogatorio difficile. Chiede con impazienza se è stata trovata la prova della sua innocenza, ma riceve solo una risposta secca e asciutta. Non è stata trovata alcuna prova. Il peso della sua situazione diventa più pesante a ogni parola. L'interrogatorio si svolge su un terreno inaspettato, scavando nel passato della sua carriera di cantante. Quando le viene chiesto se fosse a conoscenza del matrimonio di Adnan con Unkar, Sevda risponde con un misto di rabbia e incredulità. Cosa c'entra un passato così lontano quando Adnan è da tempo un ricordo? Ma l'interrogatorio non si ferma. Le domande si fanno più incisive, chiedendo a Sevda perché non sia tornata a Istanbul. L'incomprensione diventa frustrazione, quando le domande sembrano diventare sempre più irrilevanti. La tensione raggiunge un picco quando le viene chiesto perché non sia tornata a Istanbul dopo la morte di Adnan. Gli investigatori rivelano la conoscenza di un dono, proprietà e denaro, da parte di Demir. Un dono da ex amante di Adnan, suggeriscono. Sevda, offesa, richiede rispetto. Nonostante le proteste di Sevda, gli investigatori non ritirano la loro affermazione. Ma lei non si ferma, negando qualsiasi ostilità verso Hunkar. L'interrogatorio si intensifica, con il procuratore che accusa Sevda di essere l'amante di Adnan. Ma Sevda risponde con fermezza, sostenendo di essere stata la moglie di Adnan, nonostante la mancanza di documenti ufficiali. E se hanno dubbi, suggerisce, possono chiedere a Demir. L'interrogatorio prende una svolta imprevista, quando gli investigatori suggeriscono un nuovo scenario. Sevda che anela a diventare la legittima moglie di Adnan, ma Hunkar rifiuta ostinatamente di concedere il divorzio. In preda alla confusione e alla frustrazione, Sevda si domanda a voce alta cosa centri tutto ciò con l'omicidio. La situazione si complica ulteriormente quando il procuratore suggerisce un possibile collegamento tra la morte di Hunkar e l'ostilità percepita da Sevda. Ma Sevda non si lascia intimidire e respinge con forza tali insinuazioni, sostenendo di non avere mai avuto alcuna ragione per voler far del male a Hunkar. Eppure, il procuratore continua a insistere, suggerendo che Hunkar potrebbe aver tentato di spezzare il legame tra Demir e Sevda, mettendo in pericolo lo stile di vita lussuoso di Sevda che Demir finanzia. Con vigore e fermezza, Sevda respinge queste insinuazioni, insistendo sulla loro mancanza di fondamento. Tuttavia, l'interrogatorio diventa più intenso quando il procuratore presenta alcuni gioielli che appartenevano a Hunkar, indossati il giorno dell'omicidio, ma mancanti al ritrovamento del corpo. Sevda è visibilmente colpita, negando di averli mai visti. Il procuratore rivela, allora, che i gioielli sono stati rinvenuti durante un'ispezione della sua abitazione. Questa rivelazione lascia Sevda senza parole, visibilmente scioccata. Nel frattempo, fuori dall'aula di tribunale, Demir entra in scena, deciso a difendere Sevda. Afferma che le indagini stanno puntando alla persona sbagliata. Ma il procuratore non si lascia impressionare e continua il suo interrogatorio, chiedendo a Sevda di spiegare il suo rifiuto del denaro offerto da Demir. Sevda insiste sul fatto che l'offerta l'ha offesa, ma il procuratore non desiste, sostenendo che forse Hunkar stava cercando di interferire con l'aiuto di Demir. Altrove, Mushgan cerca di fare ammenda con sua zia, esprimendo il suo pentimento per averla accusata ingiustamente. Nonostante il suo sincero rammarico, la zia rimane ferita e delusa, rifiutando le sue scuse. Mushgan, nel suo sforzo per riparare il danno, racconta degli eventi del funerale e dell'arresto di Sevda. Con uno strano dubbio negli occhi, Beice afferma con sicurezza. Sono certa che sia stata lei. L'atmosfera diventa pesante mentre seguiamo Beice nelle ore successive all'omicidio, avvicinandosi sinistramente alla residenza di Sevda. Nell'oscurità vediamo Beice che si toglie silenziosamente le scarpe prima di entrare furtivamente nella villa. Sevda, all'oscuro del pericolo, accarezza un gattino e dà a Beice l'opportunità che stava aspettando. Si dirige al piano superiore. Le scale diventano l'anticamera del suo piano sinistro. Nel silenzio della camera da letto, il suo piano malefico inizia a prendere forma. Estrae con cura i gioielli rubati a Hunkar e li piazza in un cassetto, facendo attenzione a non lasciare tracce. Poi, con un ultimo sguardo, esce dalla stanza, lasciando dietro di sé una trappola per Sevda. Sta quasi per uscire, ma il destino ha in serbo un altro piano. Sevda quasi la scopre e Beice si rifugia dietro una porta. Quando il pericolo è passato, fugge rapidamente dalla casa. All'esterno, i sandali di Beice rimangono abbandonati, ma un'altra figura emerge all'orizzonte, una donna che lancia un'occhiata furtiva a Beice. La zia di Mushgan è stata scoperta da occhi indiscreti. Un colpo di scena che potrebbe cambiare tutto. Nel frattempo, assistiamo alla tensione palpabile alla stazione di polizia. L'interrogatorio di Sevda continua. Il procuratore rivela la scoperta dei gioielli lucenti di Hunkar nascosti nella sua abitazione. L'atmosfera si infittisce ulteriormente quando Demir, con un volto carico di delusione, fa il suo ingresso. Sevda, scioccata, non può accettare che l'uomo che considera come un figlio possa pensare che lei abbia commesso un crimine così orribile. Disperatamente si rivolge a Demir, giurando la sua innocenza e suggerendo che potrebbe essere vittima di un complotto. Il procuratore, gelido e tagliente, delinea senza mezzi termini le prove contro Sevda, ecco i fatti, ecco i gioielli di Hunkar ritrovati nella tua dimora. Avete litigato, hai perso la testa e l'hai uccisa. Queste parole rimbombano come un martello, pesanti come il piombo. Sevda, devastata, si trova a dover affrontare una realtà che sembra non lasciare scampo. In un gesto di disperazione, si abbandona su una sedia, rivolgendo a Demir uno sguardo carico di angoscia. Si può quasi toccare il dolore di Demir mentre lotta per contenere le lacrime e la rabbia. Fuori dalla stanza, confabula con l'avvocato, ostinandosi nel non voler accettare che Sevda possa aver compiuto un gesto tanto efferato. L'avvocato tuttavia insiste, evidenziando la schiacciante solidità delle prove. Un momento di acceso confronto si accende quando Demir insiste sul fatto che, se realmente colpevole, Sevda avrebbe dovuto eliminare le prove. Ma l'avvocato ribatte, proponendo l'ipotesi che Sevda forse non prevedeva di diventare una sospettata e che avrebbe potuto progettare di vendere i gioielli. Ci troviamo di fronte a una scena straziante. Sevda in catene, mentre passa davanti a Demir con uno sguardo disperato. Demir, col cuore pesante, segue con lo sguardo la donna che suo padre ha amato profondamente. Nel mentre, Beyce fa il suo ritorno alla casa di Fekeli, con Mujan al suo fianco. Mantiene l'apparenza della vittima innocente, indignata dalle accuse di Mujan. Mujan, pentita, si scusa per il suo errore di giudizio e cerca il perdono di Beyce. Quest'ultima, con un sospiro di sollievo, accoglie Mujan in un abbraccio conciliatorio. La scena si sposta alla tenuta Yaman. Demir, con un gesto di resa, siede abbattuto nel salotto. Zuley ha fa il suo ingresso e si siede accanto a lui, chiedendogli notizie di Sevda. Demir rivela che il giorno seguente sarà chiamato a deporre in tribunale. Zuley, spaventata e preoccupata, chiede chiarimenti. Demir ammette la scoperta scioccante dei gioielli di Hunkar nella casa di Sevda. Zuley, sconvolta e incredula, respinge con forza l'idea che Sevda possa essere la vera colpevole. Così, Zuley manifesta i suoi dubbi a Demir, chiedendo se veramente ritenga che Sevda possa essere coinvolta. Ma Demir è sconvolto, confessando a Zuley di sentirsi come in un labirinto, incerto su cosa pensare. In preda ai sensi di colpa, Demir si ritrova a insistere sul fatto che tutto sia stato causato da lui. Crede di aver fomentato la rivalità tra le due donne, alimentando un terreno fertile per le inimicizie. Ammette di aver sbagliato a portare Sevda a Chukurova e soprattutto al matrimonio di Sabahattin. Ora Demir si sente responsabile della tragica fine della madre, ma Zuley si rifiuta di lasciare che Demir si attribuisca a tutto il peso della colpa. La scena si trasferisce nel salotto della tenuta, dove le donne si sono radunate per commemorare Hunkar. Zuley si unisce a loro, ma notando l'assenza di Ammine, confida a Demir la sua preoccupazione. Segue un momento straziante. Ammine, con un piatto in mano, procede a passo lento verso il cimitero. Giunta alla tomba di Hunkar, inizia un monologo intimo e commovente. Promette alla figlia che sarà sempre con lei e che ora può finalmente trovare pace dopo una vita piena di lacrime. Dice di aver portato il suo piatto preferito e desidera abbracciarla presto per allontanare la sua paura del buio. Demir e Zuley raggiungono Ammine. Da lontano osservano la scena toccante e poi accompagnano dolcemente la donna verso casa. Rientrati alla tenuta, trovano Fecheli che si aggira vicino alla finestra di Hunkar. Ammine, vedendolo, si avvicina e gli chiede se è venuto per Hunkar. Lo esorta a nascondersi, temendo che la presenza di Fecheli possa infastidire Adnan, padre di Hunkar. Rivela che Hunkar è stata promessa in sposa a Adnan, ma sa che il suo cuore appartiene solo a Fecheli. Fecheli, commosso e con le lacrime agli occhi, ringrazia Ammine. Quest'ultima lo prega di non far soffrire Hunkar, di rendere la sua vita felice e di vegliare su di lei. Nel frattempo, l'azione si sposta alla dimora di Fecheli. Nel salotto, Behice e Mushgan sono in attesa e poco dopo fanno il loro ingresso Yilmaz e Fikret. Zia e nipote si informano sulla presenza del padrone di casa e Yilmaz le informa che Fecheli è rimasto al cimitero per rendere omaggio a Hunkar. Si sviluppa un dialogo tra i quattro. Fikret esprime i suoi dubbi sull'implicazione di Sevda, ma Behice, senza indugio, sposta l'attenzione su Demir. Secondo lei, le precedenti azioni di Demir hanno innescato tensioni e risentimenti tra le due donne, culminati nella richiesta di Hunkar a Sevda di lasciare la città. Quest'ultima, rifiutandosi, avrebbe provocato una lotta dalle conseguenze fatali. Improvvisamente, Behice esclama di sentire freddo e chiede a Mujgan di recuperare il suo cappotto dall'atrio. Vediamo Mujgan afferrare il cappotto, ma una lettera cade dalla tasca. Mujgan la raccoglie, intrigata. Comincia a leggerla e il suo contenuto la lascia scioccata. La lettera, oh, la lettera di cui tutti parlano, scritta da Yilmaz a Demir, è una dichiarazione che svela la colpevolezza di Mujgan nell'atto disperato di aver sparato a Zuleya. E no, non c'entra la zia Behice questa volta. Il destino ha scritto un altro capitolo. Mujgan, attonita e sconcertata, si precipita in sala, accusando Yilmaz di averla tradita. La sua voce trema mentre chiede al marito perché abbia scritto quella lettera. Yilmaz, con un tono glaciale, le risponde che senza quella lettera lei sarebbe già dietro le sbarre, rivelando che è stato Demir a costringerlo a firmarla. Yilmaz, con la voce vibrante di emozione, ribadisce che non può essere incolpato per averla salvata. La discussione si fa accesa. Mujgan non è disposta a cedere, accusando Yilmaz di non averla interpellata prima di decidere per il suo futuro. La tensione sale quando Yilmaz, stufo delle parole, le chiede dove abbia trovato il documento. Mujgan non risponde, e qui interviene Fikret con una confessione sconvolgente. È stato lui a prendere il documento dalla casa degli Yaman. Il gelo cala nella stanza. Quindi sei stato tu e non lei? chiede Yilmaz, gli occhi fissi su Fikret. La risposta di Fikret porta in un territorio oscuro, dove il nemico di un fratello è il nemico di tutti. La notte si posa mentre Yilmaz e Fikret si incontrano nel giardino di casa Fekeli. Fikret racconta del suo passato a Chukurova, dei due nomi che dominavano, Ali Rahmet Fekeli e Adnan Yaman. Il padre di Demir è sempre stato crudele mentre Fekeli è sempre stato buono e altruista. Rivela che suo zio Fekeli è stato in prigione per venti anni a causa di Demir e che anche lui di conseguenza ha un problema con gli Yaman. Ma Yilmaz non è convinto. Cerca di interrompere Fikret, ma lui continua, insistendo che la carta firmata rappresenta una sentenza di morte per Mujgan. Fikret osserva il mondo che lo circonda, la mente annebbiata da dubbi e sospetti. Demir, secondo lui, stava aspettando l'occasione giusta per vendicarsi e questo l'ha spinto a rubare quel documento, quello stesso che potrebbe essere la chiave di tutto. L'aria è densa di tensione e le conseguenze di quel gesto potrebbero essere inimmaginabili. Ma la vicenda prende una piega inaspettata. Vedrete Mujgan, un'ombra silenziosa, osservare da lontano la conversazione tra Yilmaz e Fikret. L'atmosfera è carica, le parole pesanti come piombo. Intanto la scena si sposta su Fekeli e Demir che si trovano faccia a faccia. Demir, con gli occhi velati di dolore, rivela che Sevda è stata arrestata per omicidio. Fekeli, con gli occhi accesi di rabbia, interroga Demir sulla veridicità dell'accusa. Ma Demir è sospeso tra il dubbio e l'incredulità, incapace di accettare questa oscura verità. Le prove parlano, ma il cuore di Demir è diviso. Ed ecco Fekeli, tremante di indignazione, giurare che se è stata davvero Sevda, non la risparmierà. Demir ribatte, la voce tesa come una corda pronta a spezzarsi, che nemmeno lui porterà più rispetto per lei se fosse colpevole. I giuramenti si susseguono, le vite si intrecciano e i destini sembrano scritti nella pietra. Le anticipazioni si concludono qui, ma l'adrenalina, la passione e la suspense non finiscono. Vuoi scoprire la verità? Allora scrivi qui sotto Sì, voglio sapere! E preparati a immergerti in un nuovo video, ricco di emozioni, di colpi di scena e di rivelazioni sorprendenti. Non dimenticare di iscriverti al canale, lasciare un mi piace e condividere l'emozione. Il destino di Sevda, il futuro di Zuleya e Demir, il segreto del testimone misterioso. Tutto questo e molto di più ti aspetta. Rimanete sintonizzati. Grazie. 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 Grazie a tutti